Ciao ragazzi, eccoci con la quattordicesima parte di Plague Tale Innocence Legami di Sangue. Nella scorsa parte è stata una situazione un po' onirica e adesso riprendiamo, speriamo, nella realtà. Comunque Hugo è scappato. Ah, è andato dall'inquisizione. Solo il grande inquisitor può dire. Ma hai detto di me. Le mie parole sono di nulla importanza, solo quelle del grande inquisitor. Andiamo bene. Ma sei sicuro, sei molto precioso per lui. Sì, ma il fondo tinta faceva parte della divisa, oppure lo mette lui per diletto? Beh, giustamente lo rinchiudono e lasciano una credenza aperta con l'uscita laterale. Sì, dobbiamo trovare la mamma. Quindi, tra parentesi ragazzi, in tutto il suo discorso non è neanche menzionato il fatto che usiamo lui. C'è una parte stealth con Hugo. Figgata, incredibile. Eccoci, sta male. Sì, perché Lucas, madonna, è pieno di vene. Lucas non aveva fatto in tempo a curarlo. Quindi sta per superare quella fantomatica prima soglia. Intanto guardiamoci intorno, ragazzi, perché è bellissimo, inquietante, ma bellissimo. Quando si va a finire, eh? Pronto, l'ora della conjurazione si approccia. Ma pensi di Vitalis, il tuo ordeo non è nulla per bene a lui. Pimpa! Delle persone? Dove? Ah, intanto c'è sto schifo che... che cresce. Dove cazzo è? Ah, vieni qua? Va lento come una lumaca, eh, quindi ce la facciamo, eh. Dove? Ah, si ferma qua. Eh, andiamo a una bella esplorata, ragazzi, perché... Come sapete io cerco tutto. Oh, è così grande. Nick, dove c'è mamma? Materi, materiali... Unico gold, unico. Dopo te rompendo, scelgo il tuo camino. Il camino al sangue del Chiuso. Cosa? Qualcuno è venuto! Medicus! Lei ha il riferimento di oggi? Gli occhi nel culo! Ma la massa di raw sanguiccia è diminuente. I nostri ricercatori sono decimati dai rati. Fai il vostro meglio. La vita del grande inquisitor dipende dalla qualità delle distillate. Ma non dovrebbe essere un bene superiore, altro che la vita di uno. Teoria. Intanto con la dello schifo. Piano, 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 piano. Qua si passa. Qua ci sono delle bottiglie. Ciccio stai fermo. Non vuoi fare brutti scherzi. Un attimo. Eh, non ho... Yugel è disarmato. Ah, quindi è proprio... Deve proprio andare così. Aspetta un attimo, eh. Come... come faccio? Porca puttana! Hmm... credo che stiamo diventati! Trocatele! Ma, ragazzi, io non vedo nulla, eh. Voi vedete di più, ma io con la cadiera non vedo niente. Non ti preoccupare, il sangue del bambino ristrereà il equilibrio di potere. Puoi il suo sole emergire in scala. Ad Ignem. Ad Lukem. Per ora... è fattibilissimo. Ah, io passo subito. Perché... non vedo niente di particolare. Cosa che non ti giri. Siamo dei ninja? Eh, beh, tranne prima. È un piccolo dettaglio. Aspetta lì. Il distillato è sticcato. È necessario cambiare i filtri e scoprire i tanti. Stiamo intenti perché si gira. Prima che finisca di trasportare la roba, andiamo via. Chissà se ci sono dei collezionabili. Non vedo niente. Abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo. Spero così. Perché questo è tutto che potremo produrre. È già un miracolo che il corpo di Vitali possa prendere molte quantità di episanguis. Non ho via. Non ho via. Non ho via. Ci sono anche le guardie armate. Siamo nella stessa città, in fronte della città. Oh, quindi, tu sarai vicino alla grande presa che ci riuscirà. Ok, uno. Ah, sono loro che parlano. Non ho via. All'inizio della città. Siamo inizialmente. Siamo inizialmente. E poi potete essere inizialmente di 40. Ah, quello là su ci vede. Come... P.P. Attenzione. Bottiglie! Non ho male che sono deficienti, non lo dirò mai abbastanza. Ok. Anche se so che passo facilmente, sono sempre un po' teso perché comunque si passa proprio per il rotto da cuffia. Mi ha visto, come Meli. Questo è il mio corpo. Sì. Ah, devo passare quando c'è il vapore? Sì. Renderà cieco. Però io voglio vedere. Poi magari perco tempo e non c'è più cazzo. Cosa? No. Eh, ho corso. Dico complimenti all'addestramento che hanno subito queste povere guardie. Cazzo. Eh, non hanno la visuale periferica. Loro vedono solo dritto. Uh, bello. Non c'è più. Cazzo. 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 Il testo chiaramente menziona l'ascensione di un figlio durante la grande plaga di Justiniano. Cazzo. Cazzo. I nobles romani lo isolarono dai loro e lo chiamarono in segreto. Talmente un ancestro di Hugo de Rune. Continua? Sì, stanno parlando di me. Calendo però? Posso passare? Madonna. La grande inquisitora otterrà l'adorazione di persone, e con questo non precedente politica. Il presso di Gautier ha detto molto. La corte del popolo è preoccupata, e così dovrebbe essere. Serve loro il giusto per non... La prima macula. Nel cuspo della prima città, diventa la perdita carriera, o cammina dietro l'unico che lo poteva il maestro o il slave il ordine o il caos ma come può essere sicuro? non importa i testi di ricerca di Beatrice da Rune sono tutti codi non mi dico ho alcune buone notizie hanno finalmente riuscito al basso quindi lei va a rilassare a circa il tempo ok mi metto qua finchè non va via speriamo che non gli serva questo foglio dai pelato ok dritto per dritto ce la stiamo cavando bene mi ha becchiato solo una volta e mi stavano per becchiare una seconda ok aspetta non facciamoci organizzare cioè non facciamoci organizzare non facciamoci sgamare non vedo non vedo non vedo un arci cazzo ho azzeccato completamente a caso la strada perchè vi ripeto io non vedo nulla ah siamo nella navata lei è nel basso hanno detto devo continuare a andare dobbiamo continuare a scendere sai chi è sta tomba? chissà se la cripta cioè se la chiesa è basata su una chiesa reale come al solito non sapendo dove è ambientata la trama è difficile capirlo ah si comunque io non penso che ci siano decollezionabili con lui attenzione una due tre guardie stiamo molto attenti allora è questo è tutto anche se è tutto via è tutto Vitalis Monseigneur Gauthier I trust your journey went well Now spare me your niceties We grow tired of your little game, Vitalis A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself You have completely lost your mind And all this is... If I may It's important We have the blood of Hugo de Rune Have you tested it? Yes, alas, Monseigneur The boy should have reached the first threshold already But it seems something in his blood has slowed the process The macula is still in its original state No matter If the books are correct, my blood and his will be bound When he reaches the next threshold I shall reach it with him Proceed That's enough You play the martyr But allow me to tell you the truth You are a vile heretic driven mad by power The Pope considers you a threat Vitalis Benevent You are to be excommunicated One can excommunicate a man, Archbishop But not a saint Your inquisition is over Meaning that a new era commences One where puppets such as yourself will kneel And beg me to save them He is with us Very good Go and see whether Beatrice de Rune has regained consciousness Ho dei cuore I have to follow him Why does she keep resisting my body? We have the same goal We both fight the plague Only our methods differ A daughter who is making the same error Ma il ragazzo è unico, potrebbe comprendere. Unico? Sono unico? Adiz, ad ignem. Ad lukem, signor. Quindi, vedi il grande inquisitor? Si. Il sangue del carrier flora sulle sue veine. La conjurazione prenderà. E' splendido. Il fine della plaga è niente. Ma non lavori il tuo Dio. Che cazzo è andata adesso? Ah, c'è un'unica strada, spero. Ah, eccola. Il cielo. Non vedo il cielo. Ma Nicholas, ringrazio per capire il figlio. Siamo andati per le settimane. E poi si arriva qui, chiedendo di vedere la mia mamma. Eh, sembra che ha un senso di humor. Che non lo guarderà durante tanto. Ho dovuto andare a vedere la mia mamma. Per me stesso. Che va a fare con lei? Vediamo se non ho sbagliato. Se tu ti passi però, non so se... Oh no! L'altra parte, velocemente. Capitano, avevo detto che il portatore della macula è qui, è vero? Il figlio si è riuscita questa mattina. Apparentemente c'era un... ...discordamento con la mia sorella. Ah, è ancora un figlio, è vero. È difficile di credere che ci sarà salvato tutti. Se tutto va a fare... Ok, ho visto già la porta, quindi... Ah, non devo correre. Abbiamo già visto che c'è qualcuno lì. Più di uno, cazzo. E stanno tutti fermi? Ok. Ok. Da dove passo? Da qui? Ci vedono in situazioni molto diverse, cioè meno ovvie, qua no. Che siamo completamente alla luce. I nesti, eventualmente, si uniranno insieme per formare un nesto gigante. È solo un po' di tempo. Allora, lasciatemi chiedere... ...che la ceremonia di Vitalis, sicuramente, prenderà in situazione. Onde è? Non trovo mamma senza lui. Ehm... Ogni volta c'è sempre più chiara la natura di questo rituale. Sì, vogliono controllare la macula, unire tutto l'alveare... Tutto l'alveare... tutto il... Ehm... come si chiama? Tutto il nido dei topi in un unico nido. Eh... Dicami... Ah, topi senza peli. Vediamo che noi dobbiamo trasportare loro. Non hai nulla da sfruttare loro. Un'attività maticolosa e una piccola alchimia hanno temperato i loro instinti. Non di menzionare... Un cambiamento radicale della dieta. Eh... Buono. Radicale cambio di dieta. Sa che cavolo gli danno da mangiare. Comunque, ragazzi... Vedete, hanno... Cambiato... Cioè, quegli incroci genetici. Ma si sapeva già a quel tempo degli incroci genetici. Un po' anacronistico. Boh. Non lo so. Comunque, vedete, i topi sono bianchi, quindi... In qualche modo... Non posso sentirli. Perchè lui, ovviamente, ha questo sesto senso legato alla macula che gli fa avvertire i topi. Attenzione. Ehi, figlio. Aiuto! 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 Nooo! Ci tua! Per poco! Oh, madonna! Questi! Ehi! Questi! Ehi! 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 Guarda, i dotti di angeli, MI Questo è il suo figlio con un刀 nella sua piazza. Si piacciono. La ragazza di rune va a sfruttare, io dirò. Serve a lei. È una ragazza educata, dovrebbe essere un'altra parte. Oh no, è davvero troppo stupida. Ma non per la tortura. Non vorrei trovarla come Griffith della squadra di Falke di Berserk. Che gli staccano la lingua, gli tagliano i tendini. Ah, immaginate quanto sarebbe terribile per lui. Dicevo, quanto sarebbe terribile per lui. Hai qui, cazzo. Almeno mi lascia morire fuori 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 fuori. Non mi piacerebbe fuori fuori fuori, credi. Almeno qui il tuo carcassino può ancora essere di valore per i nostri amici. Pensi a te, Lucky. Oh, cazzo. Stavo parlando con qualcuno, chi è? Aspetta, allontanati prima perché non vorrei che mi sentisse. Tanto mi sa che sta tirando gli ultimi, anche lui, poveraccio. Sono vicino, dove sarò? Aspetta. Sto vivendo con me. Per l'ultima volta. Puoi rispondere a miei domande? Eccolo... cioè, eccola! O, potremmo... Non parla? Sono curioso, ragazzi, chissà come la troviamo. Certo. Il torturatore prenderà di te. A presto avrai la tua voce. Marki le mie parole. Oh, cazzo arriva. Madonna, non vedo l'ora di affrontarlo. Spero che lo si possa affrontare. Una bella boss fight. Dove gli stacchiamo la testa, affiondate. Ah no, cazzo, è una palla, dicevo. Che cazzo è quello? Eccola. Ma sta abbastanza bene. E' anche scosciata. E' anche scosciata. Amicia diceva che sei morto, ma non sei. Amicia... ... 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 Lasciamo finire questo. Nicolás. Non puoi capire. Tu senti come io. Non ti senti, ragazzi? Ci siamo bloccati dal sangue. Cosa pensi, Hugo? La tua famiglia cresce più grande, eh? Cosa pensi? Cosa pensi. Cosa pensi aiutare aiutare, ma aiutare il mio figlio. Il suo destino non è essere in la ruina. Il suo destino è essere qui. A mia parte. Tu sei un monstre. Un monstre? Madame, hai ancora visto come. Non puoi, Molota. Scusate! Non muoverci! No le! Oh no! Mazzate! Non muoverci! Oh no! Mi sovrione, Shukru. Mi sovrione! Eccoci! La giro! Cosa faccio?! Ora vediamo cosa mi riesce a fare E' una rivoluzione per lui che la uccide Questa drone, la prima macula, è reattiva, continui Stopi torturando lui, vi dirò tutto ciò che vuoi sapere E' una versione Come va, il figlio è fortissimo Sì, sì La versione, la versione che ti esagerà, passi all'altra versione No, non lo so, non lo so Vieni a me Vieni a me Non lo so È sufficiente Hugo, diciamo qualcosa Hugo, potete sentire me? Oh no È potente Ma non ha capito Ma non ha capito il risultato che abbiamo sperato Doi sai perché? Amicia È... Amicia È... Amicia Ma è vicino Ma è vicino Ma abbiamo altri paure che possiamo giocare E' vicino Lasciatelo solo Cosa vuoi? Ahahahahahahah Ahahahahahahah Molto più Molto più Molto più E tu sarai qui con me Per assicurare che abbiamo capito Non preoccuparti, Hugo Io Ho una fede completa In ti Siamo successi No, Hugo Non cedere al lato oscuro Non fare come Anakin Comunque abbiamo finito ragazzi Il capitolo 14 È stata una parte molto molto interessante Io vi ringrazio per avermi seguito Vi do appuntamento con la parte 15 Ciao a tutti ragazzi